ciao a tutti buongiorno qui abbiamo ilenia che ci spiega dove andiamo oggi buongiorno a tutti oggi la nostra meta è il rifugio giafe l'anello angeli angeli ma dove siamo a udine a pordenone siamo a forni di sopra e abbiamo un tempo di percorrenza di due orette circa due ore 800 metri di dislivello il tempo è dalla nostra parte si è bellissimo bellissimo e cosa dobbiamo dire buon divertimento a tutti 1.500 1.500 e per il rifugio giafe pittà urrà urrà 2.500